Cari amici, cari amiche, eccoci al quattordicesimo numero di Univoca Online, tutto dedicato all'ottava settimana della cultura di Univoca. Sentiamo la presidente di Univoca, Maria Luisa Reviglio della Veneria, che ci dirà due cose proprio su questa iniziativa. Grazie. Voglio invitarvi tutti alla settimana della cultura di Univoca, dal titolo La cultura per amica, che si terrà dal 23 settembre al 7 ottobre. È la solita rassegna annuale che organizza Univoca con tutte le sue associate per far vedere come è vivo e vitale il volontariato culturale sul territorio. Soprattutto adesso, usciti dalla pandemia, ritrovarsi insieme, godere dei beni culturali e vedere come le associate di Univoca lavorano sul territorio, poi è un momento e un'occasione di ritrovo. Venite, vi aspetto. Che cos'è questa settimana dopo che la nostra presidente di Univoca ce l'ha introdotta? Bene, è un'iniziativa che Univoca promuove dal 2015 con le varie e diverse associazioni di volontariato culturale e quest'anno non solo, per cui tutte le associazioni convogliano le loro forze e le loro iniziative in questa settimana, che dal 2015 è diventata una settimana allungata, per cui copre un tempo più lungo di una settimana, ormai si attesta sulle due settimane, in cui si presentano tanti progetti, tante iniziative, tante curiosità. E ogni anno, la settimana della cultura di Univoca, ha avuto un titolo, ha avuto un tema. Il tema di quest'anno è la cultura come amica. Ed è un tema importante, stimolante, perché fa capire come il volontariato non solo è amico della bellezza, della cultura, dell'approfondimento e della ricerca, ma promuove anche pienamente l'amicizia fra i soci, fra gli amici, fra chi ci conosce in quel momento. E per cui quest'anno, con molto piacere e con molto orgoglio, presentiamo questa ottava edizione, che vede all'organizzazione ben 30 associazioni, con oltre 20 eventi, tra Torino ed intorni e provincia, e tutti tra il 23 settembre e il 7 ottobre 2022. Cosa dire di questa settimana? Si inizia in sordina, come dicevamo nel 2015, e poi riesce nel tempo sempre a proporre cose nuove, anche negli anni che sono stati caratterizzati dal Covid, per cui da una restrizione delle attività, soprattutto in presenza, siamo riusciti, grazie al progetto della Gorà del Sapere, a proporci e ad arrivare comunque agli amici, ai soci, con le nostre iniziative. Diciamo che è un momento in cui noi volontari sappiamo che portiamo qualcosa in più alla gente, alla nostra città, e questo ci fa un grande piacere. E per Giunta ci costringe, tra virgolette, a lavorare tutti insieme, che è un altro aspetto importante del volontariato culturale. Detto questo, io lascio la parola a Giulia Piovano, che ci darà proprio le linee essenziali, gli appuntamenti più importanti di questa settimana della cultura, di cui però potrete trovare il calendario sul sito di Univoca. Grazie. Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa nuova edizione di Univoca Notizie, edizione interamente dedicata alla ottava settimana della cultura organizzata da Univoca. Andiamo subito a vedere quelle che sono le proposte che arrivano dalle nostre associazioni. Venerdì 23 settembre, alle ore 17, presso la Fondazione Educatorio della Providenza in Corso Trento13, sarà possibile seguire in presenza e online proprio la presentazione della ottava edizione della settimana della cultura di Univoca. Sarà presente naturalmente il Presidente Maria Luisa Reviglio della Venaria e gli altri Presidenti delle associazioni partecipanti. Venerdì 23 settembre, gli amici di Palazzo Reale vi aspettano per le visite guidate da loro condotte presso l'appartamento del Duca del Chiablese, a Palazzo Chiablese, in piazza San Giovanni II, dalle 14.30 alle 17.30. Gli amici della Sacra di San Michele, alle ore 17.30, presso la Fondazione in Corso Trento13, propongono una conferenza che si può seguire sia in presenza che online dal titolo Memorie Culturali e Monastiche di un'Abbazia Benedettina, la Sacra di San Michele. Sabato 24 settembre, l'Associazione Culturale Atena vi aspetta per le passeggiate archeologiche organizzate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura. L'appuntamento alle 9.30 è a Monte Udapò, presso la stazione. L'Associazione dei Volontari del Mio Mao propongono alle ore 11.00 presso il Museo d'Arte Orientale in via San Domenico XI l'incontro dal titolo Medicina Cinese Classica, un reperto archeologico vivente e operante. Domenica 25 settembre, l'Associazione Arca vi aspetta per le visite guidate alla Villa Romana di Casilette e alla Villa Romana di Almese tra le 10.00 e le 12.30 e le 14.30 e le 18.00. Il Centro Culturale Vita e Pace propone alle ore 16.00 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore ad Avigliana, ma si può seguire anche online, un percorso musicale dal titolo Nina Nanna per un bambino. Lunedì 26 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze VI, l'Associazione ACME propone un incontro con il dottor Luigi Prada dal titolo L'Egitto Antico, una civiltà della scrittura, una panoramica delle conoscenze attuali 200 anni dopo Champollion. L'Associazione Amico Libro alle ore 17.00 presso il Salotto delle Idee in corso palestro 14.00 presenta il volume Alle origini della guarigione, sciamanesimo e neuroteologia. Alle ore 18.30 gli Amici dell'Arte dell'Antiquariato all'Educatorio della Provvidenza in Corso Trento 13.00 presentano le segnalazioni d'arte per il percorso Arti in Giro, un'opera, una storia, un'emozione. Martedì 27 settembre l'Associazione Pronatura Torino alle ore 16.00 in Corso Trento presso la Fondazione Educatorio presenta le attività del coordinamento Sentieri della Collina Torinese e prevedono la proiezione del video Anello Verde. Il Banco di Solidarietà Sociale alle 16.30, sempre in corso Trento 13.00, propone il nuovo progetto denominato La Forza della Solidarietà. Alle ore 17.00 l'Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, sempre in corso Trento 13.00, presentano i risultati finora conseguiti nel progetto presente. Mercoledì 28 settembre alle ore 17.30 l'Associazione Amico Libro presso la Fondazione dell'Educatorio in Corso Trento 13.00 presentano l'evento Confini e Sentieri nei percorsi della cultura, dalla classicità alle voci dell'Africa odierna. Giovedì 29 settembre l'Associazione Casa del Teatro Sacro e Popolare alle ore 17.30 presso la Fondazione Educatorio della Providenza in corso Trento 13.00, propone un incontro teatrale che potrà essere seguito anche online dal titolo Per ridere solo per ridere, a cura di Giuseppe Valperga. Venerdì 30 settembre l'Associazione Monginevro Cultura, in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Educatorio della Providenza, vi aspetta in corso Trento 13.00, ma anche online, alle ore 17.30 per un incontro dal titolo Ibarabba di Torino. Sarà l'occasione per parlare di intemperanze e azioni di brigantaggio delle bande di giovani scapestrati a Torino nella seconda metà dell'Ottocento. Sabato 1 ottobre l'Associazione Culturale Atena propone le passeggiate letture sotto i passaggi coperti di Torino, con visita alla Biblioteca Reale, all'Archivio di Stato e in alcuni locali storici della Galleria Subalpina. L'appuntamento è alle ore 15 presso la cancellata opera di Pelagio Palagi in Piazza Castello. Domenica 2 ottobre l'Associazione Amici dell'Educatorio della Providenza alle 10.30 a Palazzo Marchini a Giaveno presenta all'incontro La Pellegrina sul Cammino di San Michele. L'Associazione Amici di Avigliana, alle 10 e alle 15, propone le visite al Museo del Dinamitificio Nobel. Sarà l'occasione anche per celebrare i vent'anni dell'apertura avvenuta nel 2002. L'Associazione Arca, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, mi aspettano per la visita guidata alla Villa Romana di Almese. Domenica 2 ottobre il Centro Culturale Vita e Pace, alle ore 10.30, propone presso la chiesa di Santa Maria Maggiore d'Avigliana, ma sarà un concerto che si potrà seguire anche online, l'evento dal titolo Presto arriverà il sole e torneremo ad amare. L'Associazione Volontari del Mio Mao, alle ore 16, presso il Museo d'Arte Orientale, in via San Domenico 11, propone un incontro dal tema Campane Tibetane, le antiche ciotole del canto, a cura di Dario Gasparato. Venerdì 7 ottobre, sempre l'Associazione del Mio Mao, ancora presso il Museo d'Arte Orientale, in via San Domenico 11, alle ore 16, propone un incontro su il Mao, le antiche culture e lo sguardo contemporaneo, con la partecipazione del direttore del museo, il professor Davide Quadrio. Ricordiamo come da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si rinnova per la ventottesima edizione la rassegna Filo Lungo Filo, presso il villaggio Leuman, a cura dell'Associazione Amici della Scuola Leuman. Sul nostro sito internet www.univoca.org, nella sezione Progetti, Settimana della Cultura, ottava edizione, potrete trovare tutti i dettagli e i riferimenti per le proposte che avete sentito raccontare in questa edizione. Buona serata a tutti e alla prossima edizione. Cari amici, adesso proseguiamo con i nuovi progetti delle associazioni. Iniziamo con gli amici della Fondazione Ordine Mauriziano, che ci presenteranno un video emozionale sulla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. È un primo passo che stimolerà un progetto più ampio, un progetto che si intitola Presente e che coinvolgerà anche le scuole e il territorio. Un altro progetto importante è a cura degli amici della Sagra di San Michele e in particolare avremo l'intervista e il racconto di una giovane pellegrina che è partita proprio da Sant'Ambrogio, dalla Abazia di San Michele di Torino, di Piemonte, per raggiungere Mont Saint-Michel in Francia. Tra i progetti che presentiamo stasera è anche il Museo dell'Ex Dinamitificio Nobel di Avigliana che proprio attraverso l'Associazione Amici di Avigliana propone la visita al museo. Per finire parliamo ancora del Banco di Solidarietà Sociale. È un'associazione che non è di volontariato culturale ma attraverso la cultura vuole proprio promuovere una cultura della solidarietà. Grazie a tutti. 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 Nobel di Avigliana si propone di ripercorrere la storia di un'iniziativa industriale che ha avuto un enorme impatto in Avigliana e sui territori limitrofi, ricordare le migliaia di donne e uomini che hanno lavorato nel complesso e rendere omaggio a quelli che purtroppo vi hanno perso la vita, riportare la testimonianza diretta di coloro che vi hanno lavorato e di ciò che pensavano del lavoro pericoloso ma senza alternative a cui si sottoponevano, testimoniare i valori di solidarietà, omnegazione, dedizione e sacrificio di coloro che pur di garantirsi uno stipendio emigrarano in Sudafrica e in Messico in altri dinamitifici, richiamare alla memoria i momenti tradici delle guerre mondiali e le conseguenze che le stesse hanno avuto sui lavoratori e su coloro che lottavano per liberare l'Italia dal fascismo, evidenziare gli utilizzi positivi dei materiali esplodenti nel settore dei trasporti, delle miniere e oggi delle demolizioni, ricordare i principali protagonisti della storia del dinamitificio, Alfred Nobel, Ascanio Sobrero e Primo Levi, presentare una serie di sintetiche informazioni sui settori di produzione dei materiali esplodenti. in particolare il nostro presidente di allora, Giorgio Rossi, ha lavorato tantissimo per recuperare materiali, testimonianze e oggetti che potete vedere. Quest'anno ricorrono appunto i 20 anni e vi aspettiamo numerosi per continuare lungo questo percorso di testimonianza. Il 21 settembre dalle 10 fino alle 18 il museo sarà aperto e in particolare il 25 settembre, dove ricorre anche la giornata del patrimonio archeologico della Val di Susa, sarà ugualmente aperto con uno spettacolo pomeridiano alle 17 e 30. Per cui venite ad Avigliana, venite a vedere l'ecomuseo, venite a conoscere anche la nostra associazione Amici di Avigliana. Sono Silvana Bertoldi del Banco di Solidarietà Sociale, l'associazione che è nata dall'apportamento delle organizzazioni di volontariato Banco di Solidarietà Sanitaria e il telefono per il volontariato, operative da più decenni sul territorio. L'incertezza e il quadro complessivo in cui nasce la linea progettuale, ci richiama tutti ad un grande senso di responsabilità. La situazione in atto ha messo ancora più in evidenza le necessità del dover fare e da questo è nata l'obiettivo azione denominata la forza della solidarietà. È la necessità di un cantiere, un'area aperta per l'incontro, confronto, azione, per costruire obiettivi e finalità individuate nell'ambito della solidarietà. Solidarietà intesa non solo come risposta di aiuto soccorso ad un bisogno, ma anche come una leva di cambiamento e sviluppo sociale. Le aree e i percorsi delle attività che abbiamo previsto sono tre. Solidarietà è il valore generativo della solidarietà e la raccolta di testimonianze contemporanee realizzate sul nostro territorio perché è necessario, secondo noi è utile sempre, conoscere per capire, per valutare, per poi fare. Di queste testimonianze è prevista la pubblicazione cartacea e dei filmati. La seconda area percorsa è denominata RIS, nel significato di ricerca, innovazione, studio, sviluppo. Quali nuove strade, locali, nazionali, europei e internazionali possono essere percorribili per aiutare a dare più sostegno, sia in campo valoriare che economico, alla solidarietà. Il terzo percorso è Abitare bene per vivere meglio tutti, un'organizzazione e gestione di servizi territoriali singolarmente accessibile con una formula modulata personalizzata per necessità, risorse e età. E i servizi previsti sono servizi domiciliari relativi alla salute, sicurezza, pulizia, spesa, trasporto, socializzazione. Il secondo è co-housing di prossimità familiare e o territoriali. Il terzo è turismo e sport per tutti. Vieni con noi con modalità di partecipazione duale. I risultati attesi sono di favorire la possibilità di più benessere, socializzazione e partecipazione a cittadini con fragilità diverse, altrimenti esclusi. Contribuire al bene comune sul territorio, coinvolgere i giovani in esperienze costruttive di alternanza scuola e lavoro, e contribuire forse anche al ricambio generazionale nelle ODD, orientare, sensibilizzare, promuovere, riformare alla cultura di solidarietà. Cari amici, ringraziamo per il patrocinio la Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, la città metropolitana di Torino e la città di Torino e anche, ovviamente, non dimentichiamo mai il sostegno del centro servizi per il volontariato volto. L'inaugurazione della settimana della cultura è prevista per venerdì 23 settembre, come vi è stato già detto, ma ve lo ricordo, e soprattutto vi annuncio e vi invito già al prossimo incontro, al prossimo numero di Univoca Online, il numero 15, che sarà dedicato di nuovo alla settimana della cultura, con un'osservazione, con un'attenzione alle modalità, una sorta di conclusione e consuntivo di questa iniziativa, ed è previsto per lunedì 24 ottobre 2022, sempre alle 18. Vi aspettiamo, vi aspettiamo in tanti e vi aspettiamo in tanti alle iniziative della ottava settimana della cultura tra il 23 settembre e il 7 ottobre 2022. A presto, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!